Maggio Kic Arriva all'intervento dell'arbitro, punizione Non penso che andrà il tiro da lì, meglio metterlo addentro per cercare una deviazione Prova da lontano, conclusione da vedere e rivedere Stefano, un gol di rara bellezza Mamma mia Pierre, ma se colpiva il potere rischiava di mandarlo in porta con tutta la palla, pazzesco A memoria non ne ricordo molti altri così potenti Media incredibile per questo attaccante oggi, praticamente ha fatto centro ogni volta che ha concluso verso la porta avversaria È in giornata di grazia, viene cercato spesso e si fa trovare sempre pronto al posto giusto nel momento giusto